La Sicilia in fiamme. Complice l'improvvisa ondata di vento scirocco che si è abbattuta sull'isola, gli incendi sono divampati in zone invase dalle sterpaglie. I vigili del fuoco, gli uomini della protezione civile e della forestale sono impegnati a spegnere un vasto rogo che ha coinvolto Pollina, finale di Pollina e Gratteri. Il fuoco ha anche raggiunto alcune zone abitate, ma non ci sono danni a persone o alle case. Nelle scorse ore diversi Canadair hanno sorvolato la zona per cercare di delimitare le fiamme. In poco meno di 48 ore due vasti incendi hanno messo in moto la macchina dei soccorsi a Piana degli Albanesi e anche a Casteldaccia. Un rogo è divampato incontrato a Dingoli, dove sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco per cercare di fronteggiare le fiamme molto alte. Per evitare l'espandersi dai roghi anche ad alcune villette è stato necessario l'intervento di un Canadair che per ora ha eseguito diversi lanci nella zona. Due giorni fa invece se squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate a Casteldaccia in contrada Grifeo per spegnere un incendio che ha minacciato tre maneggi. Le fiamme nel palermitano delle ultime 72 ore sembrerebbe essere di natura dalosa, secondo il capo del Dipartimento di Protezione Civile regionale Calogero Foti e l'ispettore del Dipartimento delle Foreste di Palermo Pietro Vinci Guerra. I roghi che sono divampati tra la zona di Pollina e Gratteri non sono dovuti sicuramente ad autocombustione, commenta Foti. La zona di Lascari e dintorno è sempre presa di di mira da tempo. È perciò necessario un maggiore controllo da parte delle forze di polizia per individuare ogni singolo piromane e aggiunge l'erba è ancora verde e il terreno umido e le temperature non sono così elevate da poter pensare all'autocombustione.